Dove sta andando la consulenza finanziaria e patrimoniale? Sarà sempre più digitale e fondata sui RoboAdvisor? Quali vantaggi soprattutto i risparmiatori potranno ottenere da questa eventuale rivoluzione? I computer sostituiranno sempre più i gestori e i consulenti finanziari nelle scelte e nelle strategie di investimento? Continua la nostra inchiesta sull'argomento e siamo volati nelle scorse settimane dall'Italia nella city londinese per incontrare alcuni protagonisti ed esperti del settore in occasione di una delle più importanti fiere delle novità tecnologiche applicate alla finanza. Finovet. E in queste interviste incontriamo Stéphane Dubois, numero 1 e fondatore di Xignite, società leader nella Silicon Valley del cosiddetto mercato del Financial Market Data Cloud Solution. Tra i clienti di questa società oltre mille istituzioni finanziarie di tutto il mondo, dal Nasdaq alla borsa italiana, inclusi i numeri 1 del cosiddetto RoboAdvisoring, nomi molto noti del settore come Wealthfront, Betterment, Personal Capital e molti altri. E se c'è qualcuno in questo settore, tra le tante persone che ho intervistato, che ha una chiara visione del mercato, è sicuramente questo francese che ha fatto fortuna negli Stati Uniti. Sentiamolo, ecco l'intervista. Cosa puoi dirci dei RoboAdvisor in base alle esperienze della tua impresa in California? Mi sono impegnato molto con i RoboAdvisor perché ci usassero come fornitore di dati e così li ho visti fin dei primi istanti come pensavano e si muovevano fra un modello e quello successivo, per diversi anni, fino a che non hanno trovato un modello che funziona abbastanza bene. Hanno così iniziato a crescere abbastanza velocemente e io penso che i RoboAdvisor, preferisco chiamarli gestori digitali della ricchezza perché ci sono società più automatizzate, società meno automatizzate e addirittura alcune che mantengono la figura dell'Advisor umano. Io credo che siano fondamentalmente un'opportunità, ma costituiscono anche un rischio per l'industria finanziaria. Ho lavorato in una compagnia di software che offriva servizi di back office e di gestione del portafoglio clienti e ciò che ho imparato è che la consulenza è sempre stata basata sulla relazione personale. È sempre stato così. Le fee non sono così importanti. Le performance possono essere tollerate nei loro saliscendi. Tutto ruota attorno alla relazione personale. Nel 99, quando si affacciarono i primi RoboAdvisor, ci fu la paura, oh mio Dio, vera meno l'intermediazione nella consulenza. In vero non successe nulla. La relazione restò il fondamento della consulenza finanziaria. Ciò che i RoboAdvisor stanno facendo, penso in particolare che possa essere avvantaggiarsi di un'evoluzione nelle mentalità, l'investimento è sempre stata una cosa dove agivi per te stesso o avevi un Advisor ed era una persona. Ciò che loro stanno facendo è provare realmente ad automatizzare il processo, utilizzando un modello semplice, poche domande, reddito mensile, etf, e tu stesso fai questo. Stanno puntando alle community, ai millennials, in particolare Wealthfront. Non pensi che la generazione dei millennials, nati negli anni 80-90 del secolo scorso, non siano un target troppo poco interessante, dato che, almeno in Italia, ma anche in Europa, il denaro è detenuto da generazioni senior. Significa che è solo una questione di tempo. I millennials non hanno molto denaro, ma la grande domanda è qualcuno ce l'ha? Ci sono millennials che giocano con i RoboAdvisors che hanno anche milioni di dollari e in tempi normali si sarebbero rivolti a Goldman Sachs, si sarebbero rivolti a qualcuno come te, avrebbero avuto un Advisor per tutto quel denaro. Invece no, loro amano la gratificazione immediata, amano l'automazione. E la domanda diventa Come cresceranno? Quando avranno il denaro? Quanti di loro continueranno ad usare i RoboAdvisors invece di rivolgersi ad un Advisor tradizionale? Guardando la grande torta dell'industria finanziaria, fino a 30-40 anni fa, questa era divisa fra 4 o 5 grandi broker che se la dividevano per una sottile parte. Negli anni 90 i broker sono aumentati e ne hanno preso un'altra parte. Io penso che i Digital Wealth Manager stiano entrando e stiano creando un nuovo settore. Continueranno ad esserci tutti i vecchi servizi consulenti, ci sarà sempre Schwab, eccetera. Ma questo è un nuovo segmento che raggiungerà la piena maturazione nei prossimi anni. Ciò che queste persone hanno fatto è che l'industria precedente non ha realmente provato a fare. È automatizzare completamente i processi. Loro non vogliono fare nulla di manuale e quindi hanno preso tutte le fasi del processo e le hanno completamente automatizzate, rendendole molto scalabili e molto economiche, cioè poco costose. Molte istituzioni, molti advisor continuano ad avere processi manuali e questo è il loro vantaggio. E loro quindi possono scalare il business come nessuno ha mai fatto prima. Tu, ad esempio, conosci Andy Ratcliffe di Wealthfront. Lui ti dirà che inizialmente il suo modello era completamente diverso, che ha cambiato e ricambiato molteplici volte fino a che non ha trovato un modello stabile e che sta utilizzando attualmente, riuscendo ad automatizzare ogni parte del processo, a partire dalla raccolta dei fondi dei clienti con i quali puoi iniziare ad investire. Questo perché i millennials altrimenti rinuncerebbero. Se non posso fare questo oggi, me ne vado da qualcun altro. Non pensi che riguardo ai robo-advisor ci sia un problema di sopravvalutazione dei loro titoli? Sì, queste aziende hanno delle valutazioni elevate, ma il mercato è molto grande. Ci sono molti asset e con molte aree in cui crescere. E se consideri che loro hanno comunque la possibilità di muoversi con un modello di business molto lento, hanno molto tempo e inoltre il modello è solido, quindi queste valutazioni hanno senso. Credo che ci saranno delle fluttuazioni prima che possano migliorare ancora, ma non credo che ci sarà mai un crollo. Penso questo a causa del rimpiazzo generazionale. Fino al 1999 eravamo lo stesso tipo di persone, non avevamo cambiato le nostre abitudini. Ora stiamo parlando di un insieme diverso di persone. Abbiamo valutato più di 20 attori nel settore come ad esempio Wellfront o Betterment prima di venire qui a Fino. Tutte queste aziende sono molto simili tra loro, a partire dall'approccio grafico fino anche ai portafogli suggeriti. Non credi che sia un problema il fatto di proporre tutti la stessa soluzione con una gestione passiva senza diversificare sostanzialmente l'offerta? Non si corre il rischio di non dare un reale valore aggiunto al cliente vendendo tutti la stessa cosa. Sì, è vero, loro hanno tutto il solito approccio ma in questo modo sono molto scalabili. Nell'industria tuttavia molte persone fanno comunque le solite cose. Non vedo differenze, mi siedo con te, tu mi racconti della tua formula segreta e poi opero con i fondi o con gli etf che comunque sono automatizzati. Oggi sono semplici ma inizieranno a diventare complessi aumentando le strategie ma non lo faranno velocemente perché vogliono restare totalmente automatizzati. Così, prima di andare ad operare in determinate classi di investimento o a diventare globali vogliono essere sicuri di poterlo fare automaticamente. Tu sai quanto è difficoltoso e complesso il tuo business dai un'occhiata invece a loro hanno tempo possono crescere ancora e lo stanno facendo lo stanno facendo ora guardando alla consulenza sugli investimenti ognuno ha una sua strategia differente ognuno ha una ricetta segreta e la relazione personale è fondamentale. Certo, se fai schifo sai che perderai il cliente Ora, i robot advisor stanno creando un differente modo di gestire la relazione con i clienti questa relazione è costruita sulla esperienza da utente non sul fatto che io ti conosco io mi fido di te il fatto che tu ti prenda cura di me dei miei figli eccetera è costruita sul fatto che io amo usare il tuo prodotto amo sentirlo nelle mie tasche e su cose di questo genere è così che costruiscono la loro relazione e saranno capaci di raccogliere più patrimoni e gestire più complessità negli anni non tranno entrare in un mercato fra molti anni da oggi e comunque continuare a essere in grado di crescere credo che si stiano incuneando nel mercato la vera domanda è quanto è grosso questo cuneo cosa ne pensi di questa edizione di Finovate e suppongo tu abbia partecipato ad altre edizioni anche negli Stati Uniti considerando anche l'attività ovviamente svolta dalla tua azienda cosa ritieni di maggiore interesse e con maggiore impatto innovativo? Quanto ho visto Londra è un po' diverso da quello che si vede negli Stati Uniti qui si parla molto di banche scambi di valuta gestione della moneta non ci sono così tante presentazioni legate al capital market investment in questi due giorni sono state poche e riguardavano la gestione del portafoglio non abbiamo visto alcun robo advisor ad esempio mentre negli Stati Uniti ce ne sono moltissimi questo perché nel Regno Unito e in Europa in generale poche persone investono in market e azioni mentre negli Stati Uniti ogni impiegato ogni millennial effettua investimenti finanziari vengono fuori da scuola con questo schema mentale questa è la principale differenza che ho notato abbiamo anche visto qualche idea di investimento in cui Londra è molto forte e voluta soprattutto sul mercato delle valute e sulle banche è un'altra che è un'altra cosa che è un'altra commentata Grazie a tutti.